E' una protesta trasversale quella che investe in queste ore la Puglia e che si concretizza con manifestazioni eclatanti. Nel Foggiano, a Lucera, a difesa dell'ospedale contro il ridimensionamento voluto dal piano di riordino della Giunta Vendola, oggi comincia lo sciopero della fame del Comitato Cittadino. Sulle barricate anche altre città della Puglia e i sindaci del Barese, che ieri si sono riuniti nel comune capoluogo con il sindaco Michele Emiliano, non hanno digerito i tagli ai posti letto, in particolare i sindaci di Monopoli, Molfetta, Bitonto, Palo. La conferenza dei sindaci dell'Asla di Bari ha chiesto il ripristino di servizi medici fondamentali per il territorio. La proposta di Michele Emiliano ai colleghi è stata quella di portare le obiezioni al piano di riordino ospedaliero della Giunta Vendola sul tavolo della Commissione Consigliare Regionale, che la settimana prossima comincerà il lavoro di analisi del documento varato dall'esecutivo regionale e che finirà poi al vaglio del Consiglio in via Capruzzi. Difficile che la regione torni sui suoi passi. L'obiettivo è smaltire reparti doppione nel giro di pochi chilometri o tagliare posti letto in più rispetto alle necessità reali. La difesa al piano di riordino è affidata al direttore generale dell'Asla di Bari Domenico Colasanto, per il quale adesso la sfida della sanità pugliese è attivare servizi poliambulatoriali e di dei service, insomma attuare la deospedalizzazione della sanità. Non ci sono solo i problemi amministrativi nell'orbita della salute in Puglia, ma anche di gestione. Almeno così sembra all'ospedale San Paolo di Bari, dove secondo una denuncia della CGL Medici ci sarebbe una doppia lista di attesa. Una per chi si avvale delle prestazioni del servizio sanitario, l'altra evidentemente più semplice da smaltire, riservata a chi ha la fortuna di pagare in proprio di Colveri.